Musica Oggi in occasione della festa dell'anguilla che si tiene ormai annualmente a una tradizione qui per Torre di Mosto sono stati liberati un paio di storioni nell'ivenza e un determinato quintallaggio di anguilla. Musica Questo perché? Perché l'ivenza che è forse uno di ancora i pochi fiumi in Italia in cui l'ustorione esiste allo stato naturale ha bisogno però di essere aumentato, di essere incrementato. Musica Il nostro lavoro fa parte di un progetto che si ormai trascina da dieci anni organizzato e seguito dall'Amminizzazione Provinciale di Venezia, di Troviso e dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva proprio per riportare quelle specie ittiche che sono o in sofferenza o che sono in via di estinzione nei fiumi in cui ancora possono vivere. Grazie. Musica Musica Musica